E se un uomo parte il filo, è soltanto un uomo solo Con la leggenda della musica italiana nel mondo, IPU, apriamo questa giornata dedicata a una voce del Padre Pino nel mondo Questo è il saluto di tutti gli italo-canadesi, questa è Toronto, sono tutti gli italiani nel mondo che ci salutano E poi a Padre Pio piacevano le canzoni Sì, senz'altro Padre Marciano Morra, lo presento ma non ha bisogno di presentazione, è uno dei grandi nomi dei frati francescani Perché lui ha avuto anche la fortuna di conoscere bene Padre Pio Toto Cotugno Una delle grandi star che vi abbiamo portato qui questa sera Allora Toto A volte che vengo da voi in Canada, provo sempre un'emozione quasi commovente Siete troppo belli, veramente, veramente Lune a tontano, io ne ho cavalcate su strade proibite E sotto il rasoio dei giorni di cose ne ho perso E quando il mondo mi sembra più bello inizia ad essere Perché è vero, è vero che ci sei Perché è vero, è vero che ci sei Tua malattia è guarita Tua malattia è guarita Questo le dice la voce di Padre Pio Esatto E lei oggi è qua Mi troverai vicino a te Orietta Berti Un applauso, quanto sei bella Orietta Negli ultimi due mesi abbiamo già trapiantato i primi due pazienti Contiamo di completare la sperimentazione clinica entro il 2013 È un record italiano questo, quindi siatene orgogliosi Vincino a me Sto pensando a te E grapiosa è l'emozione che Crescete tra me E mi manchi sale Loro sono le Trend e Daniel Panetta Un applauso a questi ragazzi giovani e già così bravi Quando si bussa alla porta di Casa Sollievo della Sofferenza C'è sempre qualcuno che vi accoglie con amore e con affetto Oggi è un altro giorno Oggi è un'altra realtà Ho voglia di rinascere Ho voglia di ricominciare Mimmo Foresta Grazie a gente come Carlo Si è costruita a Van, che è nei dintorni di Toronto L'unica chiesa che possiede delle reliquie di Padre Pio Qui c'è una grande devozione per Padre Pio Lei è stato proprio il frate che ha portato questa reliquia Thank you very much Diana Salvatore Padre Pio diceva una cosa bellissima Dice non portate solo le medicine al letto dell'ammalato Portate l'amore E l'amore, lo dico in una serata come questa Noi italiani lo vediamo nella casa We are the world We are the children We are the ones to make a brighter day So let's start giving Grazie di cuore per essere stati con noi qui da Toronto Saluto da tutti gli italiani che ci seguono ogni giorno su Rai International Ciao Grazie Grazie Maddalena Grazie Massimo Grazie all'Orchestra dei Suoni del Sud Ciao a tutti Grazie Ciao Grazie all'Orchestra dei Suoni del Sud